Il più cordiale e buon venerdì da Maria Beatrice Crisci, le audio news di OnnoWabTV, le notizie in positivo. Ogni anno il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la giornata mondiale dedicata all'infanzia. In questa data infatti cade l'anniversario dell'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell'infanzia che risale appunto al 20 novembre dell'89. La ricorrenza assume quest'anno un valore ancora maggiore alla luce dell'impatto globale della pandemia da coronavirus sui minori e sui loro diritti essenziali. In occasione di questa giornata l'Unicef Italia ha portato avanti diverse iniziative sul tema, tra webinar e incontri istituzionali. Un disegno al mese per accompagnare il 2021. È disponibile il calendario realizzato dai bambini in cura presso il reparto di ematologia e oncologia pediatrica della Bambitelli, attività ideata dall'Associazione Genitori Oncologia Pediatrica per incoraggiare i piccoli pazienti durante il lungo e faticoso percorso di cure. Il calendario 2021 è prenotabile con una donazione minima di 5 euro. Basta inviare un'email all'ufficio relazioni con il pubblico della Bambitelli. Per i pazienti e le famiglie partecipare a questo progetto è un segno di speranza per affrontare la quotidianità, un obiettivo concreto da raggiungere nel segno di una ritrovata normalità. Riparte il 25 novembre l'iniziativa Caserta Solidale, la consegna a domicilio di beni di prima necessità alle persone fragili, il tutto gratuitamente. L'iniziativa del Centro Sociale Ex Canapificio, Laboratorio Sociale Mille Piani, Caserta Città Viva e ancora Arci Caserta, Nero e Non Solo, il Comitato per Villaggio Quinto e Caritas Caserta. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook di Caserta Solidale. E da domani e fino al 29 novembre riparte la quinta edizione di Io Leggo Perché, un'edizione tutta a prova di Covid-19. Io Leggo Perché è una grande iniziativa sociale che punta a formare nuovi lettori, rafforzando nei bambini e ai ragazzi l'abitudine alla lettura, grazie alla creazione e al potenziamento delle biblioteche scolastiche. Alla libreria Spartaco di Santa Maria Capovetere, ciascuno può acquistare un libro e destinarlo alla biblioteca di una delle scuole gemellate. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione.